E' stata un'esperienza molto interessante, ci ha fatto capire quante cose positive ci sono in questo Paese sia da un punto di vista delle imprese, dei giovani che vogliono impegnarsi, degli enti locali, quindi del sistema degli enti locali. E' stata anche l'occasione di capire che facendo sistema fra enti locali si possono ottenere dei risultati perché si mettono insieme risorse, intelligenze, capacità per creare una consapevolezza insieme di quelle che possono essere le opportunità che ci sono sul territorio e trovare poi le soluzioni che servono a questo punto ai cittadini. Quindi la logica vincente è quella della cooperazione fra pubblico e privato e la cooperazione fra enti locali facendo fra di loro sistema.